Com'è successo? Un incidente di caccia. Tutto qui. Solo uno stupido incidente. Sia benedetto Dio, Padre di nostro Signore Gesù Cristo. Sempre sia lodato per il dono del nostro fratello Otis, per i suoi anni su questa terra, per la ricchezza del suo carattere, ha dato la sua vita per salvare quella di un bambino. Ora, più di prima, la cosa più preziosa per noi. Ti ringraziamo, Dio, per la pace che gli darà il tuo abbraccio. È morto come ha sempre vissuto. In grazia. Shane, vuoi parlare in onore di Otis? Non sono bravo con le parole. Mi dispiace. Sei stato con lui fino alla fine. Hai condiviso i suoi ultimi momenti. Ti prego, fallo per me. Devo sapere che la sua morte ha un senso. Va bene. Eravamo quasi spacciati. Le munizioni erano quasi finite. Io avevo solo un colpo. Stavo zoppicando. Non ce l'avrei fatta. Avevo la caviglia gonfia. Dobbiamo salvare il bambino. È questo che ha detto. Mi ha spitto avanti e mi ha dato il suo zaio. Corri, ha detto. Ha detto... Io resto qui, ti coprirò le spalle. È quando mi sono voltato. Se non fosse stato per Otis io non avrei mai potuto farcela. E questo vale anche per Carl. È merito di Otis. Ci ha salvati entrambi. Se mai una morte ha avuto un senso. È stata la sua.